Ringraziamo i giornalisti presenti. Abbiamo indetto questa conferenza stampa con la presenza del segretario federale Matteo Salvini, capigruppo di Camera e Senato Fedriga e Centinaio per fare il punto della situazione su due aspetti. Da un lato, proprio in queste ore è in discussione alla Camera il quinto decreto svuota carceri, il quinto indulto mascherato di un governo che pensa ormai solo ed esclusivamente ai clandestini da un lato e ai criminali dall'altro lato. Per cui noi stiamo facendo alla Camera in Aula ostruzionismo su questo decreto. È un decreto che è il peggiore, a nostro avviso, dei decreti svuota carceri finora portato dai governi Renzi-Montiletta. Perché? Perché oltre a rimettere in libertà altre centinaia e migliaia di criminali, prevede quello che noi abbiamo definito la paghetta, la mancetta ai delinquenti. 8 euro al giorno che viene riconosciuto come rimborso, come risarcimento, quello che abbiamo anche definito come indennità di delinquenza ai criminali. Questa è una follia pura nel momento in cui noi abbiamo 3 milioni e mezzo di disoccupati, nel momento in cui noi abbiamo 10 milioni di cittadini che vivono sotto la soglia di povertà, nel momento in cui abbiamo il problema degli esodati, nel momento in cui lo Stato non rifinanzia la cassa integrazione in deroga per un miliardo di euro, dare 8 euro al giorno a chi ha commesso dei reati è un crimine ed è per questo che noi definiamo questo decreto criminale. Dall'altro lato si danno i soldi ai criminali e dall'altro lato lo Stato, il Governo, sta tagliando un miliardo e mezzo di euro sulla sicurezza per le forze dell'ordine. È evidente che al Governo che sostiene i criminali e che sostiene i clandestini la Lega dice una cosa ben diversa e la maglietta ne è la fotografia. Noi stiamo dalla parte dei poliziotti e stiamo dalla parte delle vittime dei reati. Questa conferenza stampa vuole mettere in evidenza questo tema che per noi la sicurezza è un valore fondamentale, sicurezza che il Governo, il centro-sinistra vuole assolutamente smantellare. Grazie. Intanto come gruppo Camera stiamo trattando il quinto svuota carceri come ha ricordato Nicola e siamo l'unico gruppo parlamentare che sta portando avanti un'azione di forte contrasto a queste scelte scellerate del Governo. Nicola ha ricordato giustamente cosa è presente in questo provvedimento. È presente anche l'impossibilità di misure detentive preventive anche per chi è coltro in fragranza di reato anche per reatti che creano alarme sociali. Non è, e questo non lo dice la Lega, esclusivamente la Lega, ma la stessa comunità di San Patrignano ha segnalato come gli spacciatori colti in fragranza di reato vengono lasciati liberi. Ci sono casi emblematici, casi simbolici, come una ragazza quale un tunisino gli ha venduto una dose di eroina, questa morta, quasi morta nel bagno, salvata all'ultimo momento, il tunisino con la porta girevore è entrato nelle patrie galere ed è riuscito. Noi pensiamo sia inaccettabile in un momento di dramma economico in cui abbiamo il 43% di disoccupazione giovanile e il 13% di disoccupazione generale pensare che il Governo si occupi esclusivamente dei delinquenti. Perché misure sul lavoro per affrontare la crisi occupazionale, per risolvere quei quasi emergenziali che abbiamo visto ieri, stiamo vedendo oggi, anche fuori dal Palazzo Montecitorio, qui nella pazza antistante, il Governo non sta mettendo un euro. Mentre i soldi per criminali e clandestini riesce sempre a prenderli dalle tasche dei nostri cittadini. Quindi noi proseguiamo la battaglia, il Governo sappia che la Lega su queste tematiche sarà sempre in prima nidia. Il nostro punto di riferimento è che Abele viene prima di Caino e questo punto di riferimento ci guida nelle scelte sia di opposizione sia di proposta costruttiva. La Lega più volte, anche all'interno di questa Camera, ha messo sul banco della maggioranza del Governo delle scelte costruttive, delle proposte costruttive che potessero andare a risolvere il problema sia carcerario ma soprattutto della sicurezza. Perché non dimentichiamo che chi governa dovrebbe prima di tutto rispondere ai cittadini onesti, a chi magari è a rischio nelle proprie case, sulle proprie strade, chi è la famiglia che non può girare liberamente sul proprio territorio. Questo Governo fa viceversa, invece protegge quelli che mettono a rischio le case, che mettono a rischio le famiglie, che mettono a rischio la circolazione magari delle donne per paura di vivere nelle proprie città e nei propri territori. Quindi adesso passo la parola a Centinaio, Capogruppo e Senato, ma il messaggio che vogliamo far passare al Governo è che la Lega non molla. Siamo pochi alla Camera ma siamo agguerriti e non andiamo a mediazione per cercare di aiutare l'ultimo degli immigrati che commettono reati sul nostro territorio arrivato. Noi stiamo dalla parte di chi arriva regolarmente, di chi è presente regolarmente ed è un cittadino onesto. Grazie Massimiliano. Noi ci troviamo di fronte a un Presidente del Consiglio che quando è arrivato a chiedere la fiducia la prima volta a fare la presentazione del suo programma a Camera e Senato, si è presentato col sorriso sulle labbra, si è presentato con tante promesse agli italiani, si è presentato con un piano di riforme non solamente costituzionali, come in me siamo abituati in questo momento a parlare nel Senato, ma di riforme vere e di rinnovamento della società italiana. In questo momento stiamo assistendo invece a una regressione che nessuno si aspettava. Ci aspettavamo forse che le promesse del Presidente del Consiglio sarebbero state solamente delle parole, ma non che passasse dalle parole ai fatti, cioè ai fatti negativo. In questo momento con i dati che abbiamo sappiamo che negli ultimi tre anni le rapine sono aumentate del 90%, le rapine per strada del 75%, i furti nelle abitazioni del 69% e i borseggi del 48%. E questo Governo che cosa pensa? A dare 8 euro a chi sta in carcere. Mentre come ha detto giustamente chi mi ha preceduto, i pensionati, gli anziani, i giovani, i cinquantenni che sono rimasti senza lavoro, le imprese che in questo momento stanno chiedendo degli interventi importanti al Governo per il rilancio dell'economia, non portano a caso un euro. Qualche ora fa c'è stato dato anche un'informazione che se vi ricordate il famoso Governo Letta, quello che ha preceduto Renzi, che aveva promesso nuovi posti di lavoro, quel famoso decreto lavoro che aveva presentato, che aveva fatto approvare da Camera e Senato, ebbene quel decreto lavoro non ha prodotto un posto di lavoro in più, non è partito nulla, nonostante tutto. Nonostante Renzi quando si è insediato avesse detto che si ripartiva anche da lì, si è ripartito da lì e a oggi abbiamo visto che non è successo nulla. E quindi la domanda che ci stiamo facendo è, questo Governo per chi è? Se è a favore dei clandestini, se è a favore di chi sta in prigione, se è a favore di chi sbaglia e non viene punito. Noi siamo a favore dei cittadini onesti, questa è la cosa per noi importante. Noi siamo a favore dei cittadini onesti che pagano le tasse e che sono qui per lavorare e per far crescere e per far sviluppare. A nostro parere questo Governo no e quindi non si può appoggiare un Governo che fa scelte di questo tipo. Grazie. La battaglia ci sarà, questo è il Governo degli immigrati e dei carcerati, che taglia un miliardo e mezzo alle forze dell'ordine e trova i soldi, trova un miliardo per Mare Nostrum e alcune decine di milioni per i carcerati. Non ci stupisce da parte di questo Governo, di cui continuiamo a essere l'unica vera e seria alternativa, perché il renzismo veramente rischia di portarci al quarto mondo, ci stupisce che chi parla di un centrodestra da riunire voti per l'esatto contrario. Non mi stupisce Renzi, non esiste Alfano, che Forza Italia però voti contro degli emendamenti della Lega, contro lo svuota carceri, contro questo regalo ai delinquenti. Leggo che ci sono lettere in arrivo a destra e a manca per rimettere in piedi il centrodestra. La sicurezza, a casa mia, è uno dei cardini su cui un presunto centrodestra dovrebbe esistere e coesistere. Quindi qualunque lettera arrivi nella nostra buca con indotte gli 8 euro ai carcerati, il quinto svuota carceri, gli indulti, gli sconti di pena e gli sbarchi quotidiani, non ci interessano queste lettere. E quindi continuiamo a essere soli, qualcuno dice soli, siamo soli, sì, però da questo punto di vista, dire no a questi 8 euro è meglio soli che male accompagnati. E quindi spero che le lettere vengano riformulate quando qualcuno avrà le idee chiare su cos'è l'alternativa a Renzi. Se il centrodestra è anche lui dalla parte dei carcerati e degli immigrati, non ci interessa far parte di questa truppa.